Musica Munarini e Panthers tornano a giocare in campionato con una vittoria fondamentale perché battendo i Rhinos i Panthers sono qualificati matematicamente ai playoff. Che partita è stata? I primi minuti magari tesi, li abbiamo sentiti ma siamo riusciti a fare gruppo subito, difesa gioca bene, attacco giocato bene, tutto buono a parte di qualche svista nostra difensiva. Un attacco che ha giocato molto bene in Coppa e oggi ha segnato 44 punti quindi forse ci siamo, anche l'attacco è tornato a giocare bene? Sì, sicuramente è un gruppo che lavora benissimo. Domenica prossima i Panthers tornano invece a giocare a 25 aprile contro i Lions Bergamo, anche se i Panthers sono qualificati però ci sarà ovviamente da stare attenti perché è fondamentale passare tra le prime due del campionato. Sicuramente partita è sentita, loro tornano in serie massima diciamo dopo aver vinto l'altra e saranno sicuramente impazienti di venire da noi, non sono da prendere sotto gamba. Fino a questo punto della stagione cosa pensi che sia andato bene e cosa pensi invece che i Panthers debbano ancora migliorare? Il gruppo è cresciuto bene e possiamo fare sicuramente molta più squadra e avere molta più gente magari in tanti ruoli diversi che lavorano ancora meglio. Montali, i Panthers vincono con i Ragnos, una partita importantissima perché ora siete matematicamente qualificati ai playoff, che partita è stata? È stata una partita molto emozionante, è stata la mia prima da titolare e sono contento di essere tornato sul campo e di aver potuto contribuire a questa vittoria. Oggi il tuo esordio in Serie A, un ricevitore, un ruolo importantissimo il tuo perché in questa squadra ce ne sono tanti, voi giovani ricevitori state crescendo, c'è qualcuno in particolare a cui ti ispiri? Senza dubbio Emanuele Polenghi, il Long, il mio riferimento da quando sono entrato in squadra, ha sempre aiutato e aiuta sempre tutti noi giovani ricevitori con consigli che derivano dalla sua grande esperienza. Poi senza dubbio anche Tommaso Finadri è un grande elemento all'interno della nostra squadra, non solo come ricevitore ma appunto come insegnante di gioco. E poi naturalmente l'apporto di tutti gli americani, i coach compresi, fanno veramente la differenza in questa squadra. L'attacco tra la partita di Coppa e oggi finalmente è tornato a girare bene, oggi addirittura 44 punti, questo attacco può ancora crescere? Io spero di sì, possiamo sempre crescere fino all'ultima partita, ci stiamo provando. Domenica e Panthers tornano a giocare allo stadio 25 aprile contro una squadra storica del campionato, il Lions Bergamo, che partita vi aspettate? È una partita sicuramente che non possiamo permetterci di prendere sotto gamba, nonostante l'annata un po' altalenante di Bergamo, i nuovi americani che hanno coloni squadra sono nuovi, non si conoscono tanto bene, però sanno giocare. E soprattutto Bergamo ha una società alle spalle che è molto importante, è la società italiana più titolata di tutte e quindi assolutamente non possiamo prenderla sotto gamba e dobbiamo impegnarci al 100% come del resto faremo. Emanuele, i Panthers vincono contro il Rhinos Milano 44 a 22, che partita è stata? È stata una partita senz'altro molto impegnativa fin dall'inizio, che però siamo riusciti con un gran gioco di squadra a dominare. Continua a giocare praticamente quasi da titolare, come sta andando la stagione? Sta andando abbastanza bene comunque, per essere la mia prima esperienza, non me l'aspettavo assolutamente di giocare subito da titolare, però mi ero a fare molto meglio. Domenica prossima una sfida davvero importante perché allo stadio 25 aprile arrivano i Lions Bergamo, una squadra storica di questo campionato. Cosa devono fare i Panthers per vincere? Devono riuscire a reggere, come stasera, un bel gioco di squadra, perché i Lions sono una squadra molto forte, la più titolata da sempre praticamente, e hanno due giocatori americani nuovi che non si sa bene come giochino. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS